Sì, sì, vabbè, rivengo da un piccolo infortunio di incidenza di percorso e poi da quando sono tornato mi sono impegnato al massimo negli allenamenti, non è stato domenica scorsa ma è stato questa di ritornare in campo, sono felice per il risultato della squadra nel complesso della stagione e vabbè sì, ci aspettavamo una partita dura, impegnativa, che abbiamo approcciato bene secondo me in tutta la squadra e non l'abbiamo portata a casa ma si è vista che la mentalità era quella giusta. Poi grazie al risultato di Modena possiamo finalmente festeggiare questa salvezza matematica. Secondo me Kirikhoen è un bel signor giocatore in questa categoria, palla al piede fa la differenza, l'avevo preparata provandolo a mandare esternamente sul piede debole e è stato bravo Ircolani a riuscire ad arginarlo, poi ovviamente dobbiamo lasciarlo qualche tiro è stato fatto ma non ci hanno messo in grossissima difficoltà a parte qualche azione. Appunto sono soddisfatto, il gol è venuto una mischia in aria, ribattuta, rimpallo, poi è riuscito ad alzarla dal limite di carretta piccola, è stato bravo lui, però è una buona prestazione considerando che giocavamo con delle prime tre squadre del campionato. Adesso è lunga, sono giocatore del Carpi, è un altro anno di contratto qui, ora vediamo con la società come il mercato, non lo so. Ora ci concentriamo domenica che c'è un'altra partita, ci impegniamo al massimo e vediamo che riusciamo pure a portare a casa.